un piccolo indizio e cosa sarà? è stato l'inizio di un'avventura sono le rovine di Atlantide la città è congelata bello! presto di qua! non lasciarmi la mano! no, mica! Doraemon! Doraemon il film novità e la grande avventura in Atlantide evento speciale al cinema dal 5 all'11 luglio prenota subito il tuo biglietto su www.doraemonilfilma.it